Ciao, sono Leonardo De Carli, ho 31 anni e stasera sto andando in diretta su Twitch con il cappello da poliziotto perché, beh, se vuoi scoprirlo clicca sul link no, scherzi a parte, vi aspetto perché giochiamo ad un gioco veramente idiota, stupido Buongiorno a tutti, sono felice perché finalmente Milano è tornata alla normalità guarda qua, questa è la mia macchina, perfetto, mi hanno spaccato il vetro ah, abbiamo bevuto stasera signorina, eh stai accusandomi di essere ubriaca, ho avuto fuggito neanche dai miei amici Matilde, sono ubriaca? ha detto di no, Matilde sei tu che mi accusi di cose adesso lasciami andare a dormire buonanotte hai bevuto? no, amore, ho bevuto una birra, ero con i ragazzi al bar ci siamo fatti un cicchetto tu sei un pazzo alcolizzato bevi per dimenticarti i problemi della nostra parete hai problemi come gli affoghi nell'alcol alcolizzato hai bisogno di anestetizzare con l'alcol i problemi della nostra parete è un pazzo bastardo un pazzo ma che bevuto che meraviglia ragazzi, comunque vivere a Milano che gioia nel cuore è veramente bello ragazzi sono veramente contento di essere tornato in Italia contentissimo raga grazie bucchine mamma comunque raga io spero che il karma esista ancora non ne ho avuto la conferma e sicuramente se mi si sta rivoltando così perché ho fatto qualcosa di male ma non mi ricordo però sapete che cosa vi manca? vi manca l'etica ragazzi siete poveri dentro vi manca l'etica tanto matilde sono ubriaca? ha detto di no matilde porti cazzo no buono stemma a rete una cupulella che avvisi eraizzata passi scambi pa Grazie a tutti